Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 non escono mica loro qui, loro escono da una parte e entrano da due lati ho messo con il nastro adesivo, insomma l'hanno subito bloccato i carabinieri con la cintura della parte scuola esce 10 e un po' più ma uno per dire se ne porta anche la bottiglietta, la passa nel buchetto esce Vidi e entra Donini in macchia Bonini-Luca il figlio di Cilie il figlio di Cilie con la borsa il figlio di Cilie Grazie.